E' stato convocato per domani 30 settembre 2020 alle ore 17 il Consiglio Comunale della città di Agropoli per discutere dei seguenti argomenti. Interrogazione di interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco su entrate extratributarie. Ancora interrogazione di interpellanza del consigliere Abate sulle spese correnti, sulla carrabilità di via padre Giacomo Selvi e via San Felice e ancora l'assessore alle politiche economiche e finanziarie sulla proposta di delibera di cui al punto 17 dell'ordine del giorno della seduta del 14 luglio 2020. Interrogazione ancora al sindaco su motivazioni del controllo della velocità tramite autovelox mobile sulla ex strada provinciale 430 denominata Cilentana e poi sulle capacità funzionali di collegamento del 118 della guardia medica e dell'ospedale di Agropoli e poi sul pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Si passerà poi alle interrogazioni del consigliere Mario Pesca al sindaco sull'ospedale di Agropoli, sempre al primo cittadino sul parco di Agropoli in via Taverne, alla rete idrica, alla manutenzione sulle strade e il regolamento strade comunali. E ancora Giuseppina Botticchio, la consigliera di opposizione, interrogerà l'assessore alla sanità e all'ambiente sui protocolli operativi l'emergenza e week surgery del presidio ospedaliero di Agropoli dell'8 settembre 2020. Ancora la consigliera Botticchio interrogerà l'assessore alla sanità e all'ambiente sul problema delle alghe spiaggiate e poi al vice sindaco sul conferimento incarichi legali e ancora Giuseppina Botticchio, sempre al vice sindaco sui concorsi pubblici. Si passerà poi all'approvazione dei verbali della seduta del 2 settembre 2020. Ancora il diciassettesimo punto all'ordine del giorno vedrà la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione 170 del 31 luglio 2020. Ratifica e ancora variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione 190 del 31 agosto. Ratifica costituzione infine del distretto rurale cilento antico ai sensi della legge regionale numero 20 2014 e del regolamento 8 2019 e approvazione dello schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata distretto rurale culturale cilento antico. Qualora tale seduta dovesse andare deserta il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune di Agropoli il giorno 1 ottobre 2020 alle ore 17 per discutere lo stesso ordine del giorno.